I poliziotti lo hanno trovato seduto in strada, completamente nudo e sanguinante, con evidenti ferita alla testa e agli arti. In manette, con le accuse di tentato, omicidio e rapina aggravata, è finito il fratello. È successo ad Arezzo lo scorso 30 ottobre. Tutto è iniziato con una chiamata al numero unico di emergenza 112. Un uomo richiedeva l'intervento delle forze dell'ordine. Mi stanno uccidendo l'allarmante segnalazione arrivata da un condominio di largo 2 giugno. Inmediato l'intervento delle volanti della questura di Arezzo, guidate da Marco Gallorini. Gli agenti hanno rintracciato la vittima in strada, le hanno prestato il primo soccorso e hanno richiesto l'intervento urgente dei sanitari. Un'altra pattuglia è invece riuscita a rintracciare poco lontano l'aggressore, ancora in possesso di tutti gli effetti personali portati via al fratello, compresi i vestiti, nonché le armi utilizzate per il folle gesto, un martello ed un bastone. Dagli accertamenti successivi è emerso che già in passato si erano verificati degli episodi di aggressione nell'ambito familiare per i quali l'arrestato era già stato ammonito con un provvedimento del questore di Arezzo lo scorso marzo. Per l'uomo sono così scattate le manette in flagranza per rapina e gravata e tentato omicidio. L'arresto è stato convalidato disponendo la custodia a cautelare in carcere.